Amici del Mergeni Rock, oggi vi faccio vedere una delle più belle passeggiate qui a Manhattan, quella sopra l'E-Line, una vecchia linea ferroviaria che è stata rinnovata e trasformata in parco, in parco-museo. Andiamo a vederla assieme, ma lo voglio far vedere un attimo dall'alto. Ovviamente ci sono i colori invernali, ma d'estate troverete tanto, tanto verde. Pochi lo sanno, ma questa camminata è un museo a cielo aperto, ci sono tantissime opere di arte contemporanea e la curatrice è l'italiana Cecilia Remanni, che adesso è la direttrice della Biennale di Venezia. Un piccolo momento di orgoglio italiano. Osservate le rotaie della vecchia linea ferroviaria. Qui praticamente i treni partivano, c'era il distretto dell'impacchettamento della carne, si caricavano i treni e andavano verso nord. All'inizio attorno alla line c'erano solo palazzi vecchi, vecchissimi. Adesso ci sono i grattacieli più moderni di New York, li vedremo. La line passa sopra Chelsea, dove ci sono le più famose gallerie d'arte di New York, tra cui Gagosha. Bisogna visitarla assolutamente. Su queste panchine d'estate potete venire a prendervi il sole, ma guardate qua, c'è il legno delle rotaie. Manhattan è piena di questi piccoli ponti che collegano gli edifici tra loro. Qui sono su un piccolo palco dove sedersi e osservare la Avenue. Guardate come continuamente costruiscono nuovi grattacieli, sempre al lavoro. Adoro questo di New York, la capacità di recuperare degli spazi abbandonati e trasformarli in qualcosa di bellissimo. La line è l'esempio perfetto. Se andiamo a Brooklyn c'è Domino's Park. Questo è una maniera per regalare ai cittadini qualcosa che si ricorderanno per tutta la vita. Ogni stagione dell'anno la line ha colori differenti, ma sicuramente è d'estate quando c'è il flusso maggiore di turisti e vedrete tanti modelli e modelle farsi le foto in questa cornice meravigliosa. Adoro questo edificio dell'architetta da poco scomparsa, Zaha Hadid. E' uno degli edifici residenziali più belli qui sulla High Line. Antico e moderno, passato e futuro. Guardate lo scontro titanico tra questo edificio piccolissimo e questo immenso assolato. E alla fine dell'High Line si arriva proprio qua, a Yardson Yard, e davanti a noi abbiamo il vascello, dove essere. Mi sono sempre chiesto quale sia il percorso più bello di New York, se l'High Line o fare il ponte di Brooklyn. Ancora adesso non saprei scegliere, ma per un viaggio perfetto è bene farli tutti e due. Ancora adesso non saprei scegliere, ma per un viaggio perfetto è bene farli tutti e due. Grazie.